buongiorno a tutti oggi vi faccio vedere come montare il bassoio della nuova fuji 10 100 nella confezione troverete il bassoio la staffa per il fissaggio due viti l'unica cosa di cui c'è bisogno è di un cacciavite a stelle allora basta aprire i due coperti frontali prendere la staffa ci sono questi due fori inserire sotto ok prima l'uno poi l'altra vite rimantiamo i due sportelli sotto il bassoio presenta una scala natura dove andrà a incastrarsi con la staffetta che abbiamo appena montato il bassoio è regolabile in base alla lunghezza delle stampe può contenere stampe di lunghezza variabile da 10 fino ai 30 centimetri e sul lato sono riportate le misure intermedie buongiorno a tutti